Era tempo di guerra. La mia mamma aveva nascosto l'oca nel pienile. Passata la guerra, la prese fuori, ma era diventata cattiva, perché l'avevano nascosta. E il postino, che veniva tutte le mattine in bicicletta, le dava i calci. Vai via brutta bestia, vai via brutta bestia. E lei, no? Una mattina lei si vede si era alzata un po' di traverso, prende il postino, le va vicino e fa toh, nudo, lo sveste con il becco, lo prende via tutti i vestiti che aveva dosso. E poi li pestava, eh, dalla rabbia che aveva. E poi il postino, via di corso in bicicletta, nudo, e mi madre, ma va la brutta troia, le correva dietro con la scopa e lei era tutta contenta.